E' Genova il comune vincitore della sesta edizione di Urban Award, premio per la mobilità sostenibile ideato da Ludovica Casellati, direttrice di viagginbici.com, che ogni anno è conferito i migliori progetti legati alla bicicletta realizzati dalle amministrazioni comunali sul territorio nazionale. Noi negli ultimi anni abbiamo messo il piede sull'acceleratore e nel giro di 4 anni siamo arrivati un più 1500% di piste ciclabili, di bike lane e devo dire che seppur all'inizio come sempre ci sia stata qualche polemica, qualche protesta, oggi la maggior parte dei cittadini genovesi è contente e soddisfatte e sempre più persone utilizzano la bici. Dobbiamo creare le condizioni, spesso parlando anche con i cittadini, la domanda che fanno, l'obiezione che fanno è di dire ci sono poche biciclette e quindi le ciclabili non servono. In realtà il ragionamento va completamente invertito, nel momento in cui uno prevede delle ciclabili a quel punto chi vuole usare la bicicletta ha la possibilità di farlo. Cenova ha una rete anche di ciclabili interessanti, abbiamo la possibilità di andare sull'Aurelia, quindi sul mare, ma abbiamo la possibilità dal centro città in 5 minuti di arrivare a 300 metri sul mare e anche utilizzare, per chi ama la mountain bike, i decine e decine di sentieri che abbiamo sulle alture. Le biciclette, soprattutto a pedalata assistita, stanno registrando interessi di vendita incredibili, noi cerchiamo di soddisfare il pubblico, ma la mancanza tante volte di componenti ci rende un po' difficile questo obiettivo. In questo caso particolare premiamo un comune che, come dicevi, non sembra essere fra i comuni maggiormente ciclabili, il comune di Genova, con le sue salite e con le sue asperità. Tuttavia la bicicletta pedalata assistita permette di risolvere questo problema, si ha la sensazione di pedalare in una maniera diversa, più facile e questo sta portando nuovo pubblico, nuovo interesse per un mezzo semplice, affidabile, veloce, soprattutto all'interno delle nostre città. L'intenzione da una parte, la speranza dall'altra è quella di avere città con un po' meno auto, con più spazio dedicato ai cittadini e quindi anche alla loro mobilità in versione bici, in versione pedoni e anche in versione mezzi pubblici.